Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale LeonTrip, bentornati in un nuovo episodio di Dismantle, ho smantellato tutto, ok, e siamo ancora qui per continuare con le nostre avventure, bene. Ok, allora ragazzi, io ringrazio Simone e Gamer che mi hanno dato dei suggerimenti su come trovare i pezzi del treno, allora in pratica mi è stato detto di disattivare tutte le quest che mi è stato un pochino utile, mentre il buon Simone mi ha dato anche le coordinate che da quello che ho capito dovrebbero essere in questa zona qui, che non abbiamo ancora esplorato, perché io pensavo di arrivarci direttamente col treno in questa zona qui, ma facendo il giro mi sono accorto che qui c'è una strada che porta giù, vedete infatti sono qua, e adesso quindi andremo per questa strada e andremo a vedere questa zona, probabilmente non riusciremo ad andare dall'altra parte ma sicuro perché lì ci vorrà il treno, ma qui forse troveremo il pezzo. Un'altra cosa, ho uppato il martello con i vari potenziamenti e quindi adesso stiamo a posto, il fatto è che qua c'è della gente molto cattiva, porca troia, troppo cattiva secondo me. Oh! Sono due quelli! No ma tra l'altro sono velocissimi questi qua. Allora, cerchiamo di... Esatto, vieni qua, vieni qua. Salta, salta! Bravissimo, che saltino! Vabbè, due erano anche troppe però, vabbè, raga. Allora, noi stiamo andando adesso in questa direzione qua perché voglio cercare di seguire la strada e vedere che cattarola c'è. E tra l'altro siamo di notte, che ore sono? Le tre, vabbè, tra un po' farà, comunque giorno. Un cuore qua. Guarda, spawneranno comunque quando ci sediamo al falò perché... Ancora dobbiamo attivare la stazione radio, va bene. E siamo finiti qua. Ok, io qui gattererei sta roba. Ok. Andiamo a vedere che cavolo c'è. Ragazzi, tanto la zona ce l'esploriamo pian piano tutta. Ah, ma ha preso? Ha preso. Te l'esploreremo tutta. E qui dovrebbe essere... Porca miseria, che cazzo è sta roba? Una fattoria, una farm. Permesso! Porca! Molto bene. Non che non potessimo passare così, ma... Ci sono i barilli, cosa fai? Non li fai esplodere? Allora, qua c'è Search. Mette un osso. Qua c'è Reed. Che Reed? Oh. Hi Jack! Ok, ho droppato della roba, bla 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 bla. Anna. Ciao Anna. Allora, raga, scusate. Il foglietto che in pratica io ho detto bla 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 bla, eccetera, l'ho schippato bellamente. Poi sono dovuto tornare indietro a leggerlo, ho tagliato il video e in pratica c'erano cose importanti. E diceva che dentro, cioè, stava arrivando un camion di rifornimenti con la roba, cibarie, bale varie e cose per la gas qui, alla stazione di servizio. E aveva anche sulla parte del treno. Quindi l'unico camion che vedo è questo. Ok. E quindi deve essere qui. Per forza. Qui c'è da fixare. Ormai ho esplorato la mappa, ragazzi, perdonatemi se non l'abbiamo fatto assieme, però ho tagliato un po'. E comunque non c'è niente, c'è sto ristorante qui che dentro non c'è un cacchio, qua ho spaccato tutto. Questo è rotto, non possiamo andarci. Qui c'è da fixare questa roba qui, però è dall'altro lato, quindi niente. Questo è da fixare dal nostro lato in realtà e lo andremo a fare. E qua in giro ci dovrebbe essere il camion. E io l'unico camion che vede questo. Quindi deve essere qua. Con questo pacco. I feel the old and giant part. Eccolo qua! Ok. Va bene. Ce l'abbiamo. Adesso possiamo finalmente riparare la locomotiva. Porca miseria, raga. È stato un delirium. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. E vorrei anche provare a riparare questo. Che mi servono? Mazza! 12 tavole. Proviamo, raga. Però prima andiamo ad esplorare. Questa zona qui che non l'ho vista prima. Ecco le bombette, raga. Fa una roba. Li schiviamo. Questo prima mi ha accoppato. Cazzo la miseria. Le bombette non... Cioè gli mancano... Gli mancano qualcosa le bombette. A me invece manca il senso... Della profondità per fare ste robe. Ok. Vai piano. Bene. Posto. Tanto respawnano, però... Vabbè. Allora... Cristo Santissimo Dio. No, gli tiro i coltelli, raga. Perché vedete che... Mi ha sdrenato l'an... Ancora! Ok. Toggiato tutto. Che c'è qua? Che era così protetto? Porcaccio due. Non c'è niente. Non c'è una mazza qua. Altro che... Mandami ste robe alla chest. Grazie. Eh vabbè. Prendo anche un po' di sti funghetti. Tanto ci sono qua. Almeno abbiamo rischiato per qualcosa. Ok. Parti elettroniche, parti elettriche. Va bene. Dammi sto martello. Che spacchiamo tutto. E ci prendiamo anche i lingottoni. Ok. Va bene. Anche le brandine. Via. Avevo voluto fare i furbi. Eh, mo' va attaccate. Uova. Ok. Niente. C'è sta cassa. No, sta cassa... Non so. La lascerei lì. Lascerei il tempo che trovo la cassa. Non è che... Ne ho preso un po'. Eh, ma tanto sono inutili. Cioè, ci sono dentro materiali che... Cioè, troviamo ovunque, quindi. Eh, devo andare al falò. A prendere dodici di quei legni lì. E proviamo a riparare quel ponte lì. A sto punto. Sperando di non morirci. Perché, ma no, lì c'è anche un ciccione, là. Qua dentro è inutile rientrarci. Cioè, ci sono già entrato, eh, raga. Quindi non... Sì, c'è da cucinare, però. Allora. Facciamo così. Guarda che sono morto da qualche parte. Non mi ricordo dove. Qua in zona. Vabbè. Sti cacchi. E... E qua che c'è? Cerca? Niente, delle bacche. Allora. Andiamo a prendere questi. Quanti erano dodici? Oh, vabbè. Io ne ho perduto uno stack. Sì, ne avevo già fatti un po', eh, per... E sapevo che prima o poi avrei trovato un altro ponte da riparare. Ne avevo zero. Quindi ne ho fatti un bel po'. Sono stato lì un casino di tempo per farli. Però... Alla fine ci sono. Ce li siamo fatti. Dove cazzo devo andare? Qua. Troppo in giù. Sono andato. Ok. E il ponte è qui. Fix. Mazza, eh. Ok. No mob cattivi, please. No mob cattivi, invece. Merda! Troppo, troppo, troppo. Via, 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 via. Ok, via, via, via. Mi sono stuccato su un fottuto cactus. È un... Cristo di... Dai, che palle. Che palle, raga. Ecco perché voglio la... La tower. Il prima possibile, perché... E se no, tutte le volte, vedete, respawno la roba. È così, eh. Mettigli una mina qua, stavolta, grazie. Vieni qua. Venite, venite. Ah, ma questi muoiono permani. Ok. Questi hanno la perma dead. Fantastico. Infatti ne rimangono quattro. Tiriamo giù questo immediatamente. Lower. E qui? Dove andiamo a finire qua? Ah, la shortcut per andare al treno. Ok. Visto che qua ormai abbiamo visto tutto... Direi di prenderla sta shortcut. E we go. Vediamo il treno. Ma prima di andare al treno... Facciamo esplodere questo. Non è neanche venuta giù. Che barbonaggin è. Spaccala, va. Il sostegno? Chiedimenti strutturali, barboni. Allora. Per prima cosa facciamo... Che andiamo a riparare il treno, eh. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Cacchio, arwa. Sono giusto? Secondo me sì. Sì, 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 sì. Siamo giusti. Vabbè, lì ci sono ancora le piante che abbiamo coppato prima. Dove sono questi mob qua? Non lo so, ce ne sono rimasti quattro in questa mappa. Non so dove siano. Va bene. Andiamo dal treno adesso che abbiamo la parte giusto per... ripararlo. Fantastico. Finalmente, ragazzi. Era ora. Devo fare il giro della montagna del Cristo? Eh, perché questo muro qua, questo martello, ragazzi, purtroppo richiede 100 e il martello fa 90, quindi... non si è poede. Immagino comunque che abbiano messo... certe cose che non si possano rompere. oppure credo che magari, boh... si potranno rompere una volta finito il gioco, perché altrimenti... cioè, è tutto facile, cioè, tagli da ovunque. Ok, io direi, ragazzi, che se ne frega adesso mi riposo qua. Sì. Ok. E abbiamo fatto il livello? Vedete che non lo so. No. Eh, come dicevo. Il martello qua... Dov'è? Eh, l'ho potenziato al massimo. Ci vuole il titanio. Però, insomma, l'ho preso. E qua ci vogliono i mana shard per il fucile, ma chi se ne frega. Anche qua i mana shard. Non li sprecherei, questi i mana shard. Vabbè, questi li possiamo anche fare. Sti pain killer. Qua ci vogliono i pesci. Tanto non li useremo mai. Qua ci vuole il titanio. Ben sette. Porca miseria, vabbè, lo facciamo. E qua il mana shard. Vabbè, questo però, un mana shard lo uso. Ok. Il dado che se ne fotte. Per portare più... lanciabili. Titanium. Cosa è sta roba? Ah, damage deflect. Ok. Niente, poi serve dappertutto sto mana shard, quindi... Lascierei così. Ok. Invent and craft qui, ragazzi, mi ha sbloccato sta roba. C'è la torretta... Torretta... Rocket. Vabbè, la sblocchiamo. Per sempre il titanio. Il titanio. Ci buttiamo via un prodigio successore. E le torrette... Cos'è? Ah, le munizioni del 60%. Certo, certo. Va bene, lo facciamo. Queste qua sono torrette, ragazzi, che possiamo piazzare giù e sparano. Sostanzialmente. Buongiorno vi farò vedere. Anzi, vi farò vedere subito. Perché sicuramente qua ci saranno dei mob. E... Ripariamo sta roba. Thank you. Ah, possiamo cuocere... Aspetta, eh. No, voglio cuocere sta roba, raga. Un momento. E se no mi dimentico sempre. Allora. Questo. Si fa con sette carotine. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Quattro di questi. Quattro cipolle. E cinque di questi. Yes. Queste carole. E milietta più cinque. Cioè, buttali via. Perfetto. Aspetta via, dai. Ripara sto coso. Cioè, in questa mappa, ragazzi, non c'è più niente. Oh, yes. On board. Ok, ci abbiamo fatta. Coperta copyright sta musica, lo so. La devo togliere. Devo togliere, ragazzi, scusatemi. Eh, coperta copyright. Ce la siamo già beccata l'altra volta, però. Sappiamo che... Che cazzo è? Non renderizza il mondo? Che cacchio fai? Eh, sono gli zombie. Ah, passiamo davanti a un'altra locomotiva. Ma che roba. E siamo arrivati? Ok. Perfetto. Light the sword and train and come fire. Wow. Poi qua, ragazzi, ci sarà tutto da liberare. Qual posto? È importante. Non posso distruggerlo, dice. Credibile. Sarà una quest che ci farà venire qua, allora. Ok. Qui che c'è? Qua c'è un'altra quest. Investigate. Look around surrani train station for anything cold. Ah, ok. Sarà questa. Sarà questa, no? Beverly no times. Le bottiglie d'acqua. Ok. E uno l'abbiamo trovata, quindi le bottiglie d'acqua. Ok. Qui. Ma qua c'è della roba. Ok, ragazzi, però diciamo che... Penso che potremo anche proseguire nel prossimo episodio. Perché so che magari in questi episodi non abbiamo fatto granché, ma... Però comunque nel prossimo episodio andremo sicuramente... Ci andremo sicuramente a cercare di raggiungere la torre qui. Assolutamente, raga. Dobbiamo raggiungere quella torre lì. A tutti i costi. Dobbiamo avvantaggiarci magari adesso se non ce ne sono troppe rotture di palle. Un panculo. O l'abbiamo stunnato. I mob diventano sempre più difficili da buttare giù. E qua c'è un caldo. Questo spara. Ok. Questo viene mi lì. Perfetto. Porca troia, il cane mi ha fatto saltare la mina. Vaffanculo. Va bene, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie a tutti per essere stati con me. Da Leon Trip è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.